Salerno è considerato nei rapporti annuali delle varie forze dell'ordine compresa l'ultima relazione della direzione distrettuale antimafia, un distretto con una particolare vocazione al riciclaggio dei beni della criminalità organizzata di clan non solo salernitani ma anche napoletani e di cosche calabresi. Lo ha ribadito ieri il procuratore Giuseppe Borrelli a margine della conferenza stampa che presso il comando provinciale della Guardia di Finanza di Salerno ha illustrato i dettagli della misura patrimoniale che ha colpito l'imprenditore nocerino Giovanni Citarella con un sequestro preventivo di 7 milioni di beni. Ma non finisce qui, potrebbe essere questa la sintesi a margine dell'operazione che ha messo in evidenza come attraverso il contrasto agli arricchimenti poco chiari o illeciti la procura abbia deciso di attaccare la criminalità. Negli ultimi 18 mesi sono stati emessi provvedimenti che hanno consentito di mettere sigilli a quasi 50 milioni di beni. Borrelli ha detto chiaramente che ci sono altre attività in corso. Attraverso queste attività di contrasto alle accumulazioni patrimoniali illecite cerchiamo in qualche maniera di dare concretezza a quello che forma invece oggetto i discorsi a volte astratti. Con un'attenzione particolare all'agronocerino sarnese? Per la verità noi abbiamo un'attenzione a tutto il territorio del distretto che io credo abbia delle caratteristiche anche di particolare interesse perché la criminalità organizzata in realtà si manifesta in forme piuttosto diverse nell'agronocerino sarnese, nella città di Salerno e nella piana del Sele e ancora del Cilento. Si tratta di forme di manifestazione dell'agire del mafioso che sono profondamente differenti. Ma noi abbiamo varie attività in corso sia sul piano della prevenzione patrimoniale, perché non è finita l'azione di prevenzione patrimoniale che abbiamo in itinere, sia sul piano delle indagini che credo dimostreranno le cose che sto dicendo e questo assunto.